Grave lutto nel regno animale, morto Tims, famoso in tutto il mondo, dopo che i suoi padroni avevano messo una foto nei social network di lui stesso che era diventata virale, grazie alla strana espressione che il cane aveva. La rassa a cui apparteneva era una Shiba Inu, il suo vero nome era Balbal, è morto a 12 anni, è stato il proprietario a dare l'annuncio della sua dipartita, era un cane grandissimo, il post ha raccolto un sacco di views e un sacco di like, Balbal o Balbal, che dirsi voglia era conosciuto con il nome di Tims, a 12 anni se n'è andato via, purtroppo si è spento per colpa di un tumore che non gli ha lasciato alcuna tregua. I padroni attraverso Instagram hanno pubblicato diverse foto del cane in questione scrivendo che Balbal purtroppo si è addormentato nel ultimo intervento di Toracentesi. Va bene? All'inizio era stata prospettata una chemioterapia, ma alla fine purtroppo il tumore ha vinto sul cane in questione. Da Naratoide è tutto, Kimso Balbo che dirsi voglia, Balbo che dirsi voglia, riposi in pace. Amen.